Non credere alle menzogne di chi dice di conoscere il futuro. L'ansia da fine del mondo è una costante storica che genera paura e colpa negli inconscio collettivo. È sempre la solita vecchia bugia, fatta di buoni e cattivi, di ricompense e punizioni di inferni e paradisi. Non c'è nessun padre, nessun essere superiore, nessun extraterrestre che deve salvarci da noi stessi. La responsabilità è nostra e di nessun altro. La libertà è nostra e di tutti gli altri. Non credere alle profezie, al copia e incolla del web. Esprimi dubbi, vai a fondo della verità. Chi dice di conoscere l'avvenire afferma il falso e insulta la nostra intelligenza. L'unica verità sul futuro è ammettere di non conoscerlo. L'inconscio collettivo è come un mare in cui tutti nuotiamo. Quando replichiamo minacce e speranze, moltiplichiamo timori e aspettative che inquilano questo mare, dove diventa più facile pescare nel torbido. Contribuisci a rendere limpide queste acque con la tua consapevolezza, con le tue azioni, parlando con le persone, sviluppando assieme amore e capacità critica. Non temiamo il futuro, non speriamo nel futuro. Costruiamo il presente con la nostra coscienza individuale, con la nostra coscienza sociale, con la nostra coscienza ambientale. L'amore Grazie a tutti.